Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ci sostengono tutti, soprattutto i pendolari e il loro sostegno è verificato attraverso dei questionari su social network e abbiamo contattato i rappresentanti degli studenti per verificare la fattibilità reale del nostro progetto. Per quanto riguarda i risultati? Per quanto riguarda i risultati ci aspettiamo una riduzione dei tempi di attesa del 40%, una riduzione dei tempi di percorrenza del 60%, una riduzione del numero di ritardi generali degli studenti a lezione su base anno, nonché un miglioramento delle condizioni in generale e della mobilità degli studenti, perché arrivare all'università deve essere un piacere.